Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Carissimi fedeli, vi do gli avvisi della settimana. Oggi, sabato 11 giugno, alle ore 21 ci sarà l'adorazione eucaristica e all'interno il Santo Rosario. Domani, domenica 12 giugno, festa della Santissima Trinità, alle ore 10 e 30 inizierà la Santa Messa. Negli altri giorni della settimana la Messa inizierà alle ore 8. Vi ricordo che giovedì 16 giugno è la festa del Corpus Domini. Nel Vetus Ordo viene celebrato il giovedì e non la domenica come nel rito moderno. Quindi fate in modo di seguire la Santa Messa al limite anche indifferita, se proprio non riuscite in diretta. La Messa comunque quel giorno verrà celebrata alle ore 8. tutte le sere alle ore 21 ci sarà il Santo Rosario, ogni giovedì con la giunta delle preghiere di liberazione. Ogni sabato all'interno dell'adorazione eucaristica. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. Buona domenica a tutti. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. 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 Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato Gesù Cristo.